Durante la seduta del Consiglio Direttivo del 10 gennaio è stato eletto nuovo Presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Caltanissetta, la dottoressa Maria Lagreca. Maria Lagreca lavora presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, nel Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele Di Gela. È referente delle dimissioni facilitate, delle dimissioni protette, responsabile dell'Ufficio SDO e Codifica e responsabile dei dati ministeriali e statistici presso la Direzione Sanitaria Presidio Vittorio Emanuele Di Gela. È stata eletta per la prima volta come Consigliere dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Caltanissetta nel triennio precedente, nel quale a metà mandato ha rivestito la carica di Vicepresidente. Numerose sono state le sue iniziative in qualità di Vicepresidente a sostegno di tutti gli iscritti. È stata sempre un punto di riferimento sia per la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, sia per il coordinamento regionale delle professioni infermieristiche. Dopo la nomina del Presidente, la seduta del Consiglio è proseguita per la nomina della carica di Vicepresidente, che a maggioranza dei consiglieri presenti è stato eletto il dottor Vincenzo Agrò, infermiere con diverse specializzazioni in area critica. Voglio continuare nel percorso che ho già iniziato cinque anni fa, nel 2017, il giorno in cui ho messo piede dentro quest'ordine. Il mio approccio è sempre stato, mi sono spesa per questo ordine e per la crescita degli iscritti, perché è una professione in cui mi sono appoggiata e in cui credo fortemente e credo nella crescita che c'è stata negli anni. Quindi siamo entrati come i pasvi e poi successivamente siamo diventati un ordine professionale. Questo cosa implica? implica una formazione, diciamo, un percorso didattico completamente diverso, quindi l'approccio all'università, quindi i professionisti che vengono fuori da questo, diciamo, come figure professionali, sono professionisti universitari e quindi titolati a essere chiamati dottori. Il mio imprinting vuole essere quello di farci riconoscere istituzionalmente come professionisti, quindi dottori che possono ampliare in Dandimonti, come quello della ricerca, della prevenzione e dell'educazione sanitaria. Voglio approcciarmi con tutti gli altri enti, essere quindi rappresentativi in maniera strutturale e questo è quello che vogliamo fare. La cosa importante che mi sto adoperando immediatamente a fare è quello di ricreare un'amministrazione pubblica digitale che sia al passo coi tempi e che si prenda carico di tutto quello che è moderno che la, diciamo, la pubblica amministrazione offre, cioè digitalizzare fascicoli personali, aprire le porte ai ragazzi giovani, istituire la consulta giovanile e quindi rendere, rinnovare, cioè ringiovanire, dare e portare l'endusione che ho sempre avuto io all'interno del mio, cioè del mio proprio essere professionista. Questo è quello che vuole anche il nuovo esecutivo. Ho bisogno di tutti perché l'OPI è aperta a tutti, a tutti i professionisti, soprattutto deve essere un centro di attrazione per i giovani professionisti che si immettono per la prima volta dentro l'ordine.